Matteo, partiamo dal gol. Hai avuto tempo di pensare a come calciarla quella palla quando ti avvicinavi alla porta? Insomma, sei andato distinto. Sì, sono andato distinto. Tempo, anche se magari era distante da me, ma non ce l'hai. Quindi ho abattezzato il primo palo e è andata bene. Sono contento. A giudicare dall'esultanza, è il gol che ti ha dato più soddisfazione quello di stasera oppure no? Sì, è un gol importante sicuramente, in un campo difficile. Quindi sì, è fatto anche un'esultanza di liberazione perché forse in queste due partite precedenti abbiamo perso qualche punto. Quindi era proprio un'esultanza di liberazione. Come l'hai vista la squadra dal di dentro, c'era il rischio che i due gol al novantesimo contro Novare Carrarese potessero pesare. Invece mi sembra che non sia stato così. No, siamo stati bravi a reagire e in questo caso a non rischiare niente come magari è successo le scorse partite, però ci sta. Questo primo posto cambia qualcosa? Vediamo se dà una risposta diversa da sale e dal canto. Ma no, assolutamente, anche perché siamo a novembre e sicuramente fa piacere, però non pensiamo alla classifica e ci alleniamo durante la settimana al massimo per fare sempre così. Non pensate alla classifica, ti chiedo se pensi un po' alla classifica a marcatori, visto che sei già arrivato a quattro gol. È una stagione che per te potrebbe essere importante e non anche per la carriera? Sicuramente penso ogni attaccante incosciamente ci pensa. Quindi ci penso anch'io, però non è una cosa che fissa. Io prima penso a far bene insieme alla squadra. Bocca al lupo. Crepi, grazie.